Sono continuati normalmente per tutta la giornata di ieri i lavori di sostituzione dei vecchi contatori idrici per le utenze dei cittadini favaresi. È caduto nel vuoto il documento con il quale l'amministrazione comunale di Favara ha chiesto il blocco dell'installazione dei contatori e la modifica dei termini contrattuali. Probabilmente l'avvicinarsi delle prossime elezioni amministrative di primavera sta in qualche maniera modificando la percezione della realtà delle cose. In realtà la maggioranza della popolazione è d'accordo all'installazione dei contatori. L'opposizione nasce dal timore che, non avendo Favara l'erogazione H24 del prezioso liquido ed essendo Favara un paese collinare, i contatori possano rilevare anche l'aria presente nelle condotte. Ipotesi che, nell'opinione pubblica, suscita giustificabili perplessità e che, a nostro modo di vedere, dirgenti acque dovrebbe chiarire una volta per tutte. In tempi di crisi economica è bene ridurre gli sprechi e, oltre all'acqua nelle condutture, può passare anche qualcos'altro che influisce negativamente sul peso delle bollette. Quando attraverso il contatore passa l'acqua della rete idrica cittadina, si paga in funzione dei metri cubi consumati e delle tasse comunali. Ma se nei tubi passa aria, il contatore potrebbe girare ugualmente. A qualcuno sarà infatti capitato di aprire i rubinetti allacciati direttamente all'uscita del vecchio contatore e di sentire anche un lungo getto d'aria. La causa è da attribuire a diversi fattori. Quando gli addetti all'acquedotto eseguono lavori sulla rete, le condutture si scaricano dell'acqua e restano vuote e, quando poi viene ripristinata l'erogazione, l'acqua spingerà l'aria presente nelle condutture fino al rubinetto domestico. Osservare questo fenomeno è più difficile nei luoghi dove l'acqua è sempre presente. Nelle zone pianeggianti si verificherà poco o niente, mentre nei comuni come quelli agrigentini, dove l'erogazione idrica viene parzializzata, il fenomeno potrebbe essere più evidente e gli utenti maggiormente colpiti dovrebbero essere quelli delle zone collinari. I dipendenti di Girgentiacqua e S.P.A. stanno quindi anche aggiungendo per ogni erogatore una valvola di sfiato in ottone, che dovrebbe essere in grado di assicurare il blocco dei contalitri del misuratore al passaggio dell'aria. La valvola che contiene i due pallini all'interno, per funzionare correttamente, deve essere installata in posizione verticale. A Favara sono in azione ben tre squadre che in una decina di giorni hanno installato circa mille contatori. Oggi e domani pausa, si ritorna a lavorare lunedì.